Hai il codice per lo Strahov? Te l'ho detto, sono un professionista, ma voglio l'esclusiva su tutto quello che è accaduto qui e a Parigi. D'accordo. Il codice ti darà l'accesso a un magazzino. È un pass di basso livello, ma almeno sarai dentro al complesso. Penso di potermela cavare. Hai provato il codice? Io? No! Quel luogo mi dà i brividi. O per ai scomparsi nel nulla e un sacco di storie spettrali. Che succede là dentro? E chi può dirlo? Darei le mie budella per scoprirlo, ma sarebbe troppo cruento per i miei gusti. Se scopri qualcosa sarò il primo a saperlo, vero? Contaci. Oh, anche questa potrebbe tornarti utile. Lo Strahov è un posto pericoloso. Una pistola automatica con caricature pneumatico. Ogni squadra d'assalto dovrebbe averne una. Quanto vuoi? Li hai mai provate in azione? Quanto vuoi? 800 euro. Ok, parliamone in macchina. Lo Strahov non è lontano.